L'ennesimo rinvio dell'apertura di bar e ristoranti, gli indennizi insufficienti. Alcuni ristoratori dell'Umbria non ci stanno e scelgono di disobbedire con quello che facevano tutti i giorni prima della pandemia, riaprire. Il Movimento Imprese per l'ospitalità ha lanciato l'idea di lavorare a pranzo e cena dal 6 aprile. Ci spiega l'iniziativa il presidente dell'Associazione dell'Umbria, Enrico Guidi. I ristoratori sono esigui rispetto alle perdite che abbiamo avuto e rispetto alle spese che dobbiamo sostenere. L'unica cosa che possiamo fare è riaprire. Le chiusure non sono più sostenibili in una regione che è rimasta in zona rossa per la maggior parte dello scorso anno. L'Associazione assicura che rispetterà le norme anticontagio e ha quindi lanciato l'ultimatum al governo. Abbiamo pensato di mettere sul piatto delle proposte e nel caso in cui non avremo risposte entro il 6 di aprile, l'unica cosa che potremmo fare per salvare le nostre aziende è quello di riaprire. Grazie a tutti.